vogliamo ricordare che questa madonna non è una madonna strettamente a retina ma è una madonna diciamo senese la madonna di provenzano di fatto anzi dalla regia se ci vogliono mandare l'immagine della madonna di provenzano quella che è custodita nella omonima basilica senese esatto la madonna di provenzano è legata anch'essa un evento miracoloso perché era una madonna in terracotta che stava sulla nicchia di una facciata di un'abitazione senese posta lì da santa caterina secondo la tradizione che venne colpita da un colpo d'archibugio di un soldato spagnolo nel 1552 ne sopravvisse solo il busto la parte superiore venne ritenuta appunto un miracolosa e per esorcizzare il luogo da questo evento impuro e profano si resse per conservarla prima una cappella e poi un santuario che è appunto il santuario di provenzano quindi la madonna del conforto a retina di fatto si ispira a questa madonna di provenzano quando poi si diffuse la notizia di questo evento miracoloso collegato a questa immaginetta il vescovo di allora monsignor marcacci decise di portare appunto l'immagine in cattedrale sì immaginetta il termine esatto un'immagine di piccole dimensioni povera realizzata forse ad asciano nel senese ed è una delle tante riproduzioni in maiolica della originale madonna di provenzano e il vescovo marcacci che non dimentichiamolo era una personalità illuminata pisana aveva condotto colti studi decise subito di verificare il prodigio con un processo canonico sentendo moltissimi testimoni che confermarono il fatto